A Melito di Portosalvo fa più notizia il postino di C'è posta per te. E' questo lo sfogo di alcuni genitori dei ragazzi dell'Istituto Tecnico di Melito Portosalvo costretti a frequentare la scuola sprovvista di un adeguato impianto di riscaldamento e per sopperire al gelo di questi giorni senza che nessuno di competenza assume provvedimenti necessari. Il disagio di questi ragazzi sembra non interessare né il dirigente scolastico né il comune di Melito Portosalvo e ancora una volta ognuno scarica le responsabilità sugli altri, determinando una classifica di studenti di serie A come quelli del liceo e studenti di serie B come quelli dell'Istituto Tecnico. Con queste giornate gelide sono tante le scuole che in tutta la provincia regina rimangono chiuse e altrettanti gesti di solidarietà nei confronti dei senza tetto. Nessuna attenzione invece per i giovani che a Melito sono considerati dalle istituzioni meno di un clochard.